di accettare questa accusa di immobilismo, su questo non si abbiamo cambiato idea, abbiamo preso resi conto della nuova realtà che si era venuta a determinare, tenendo sempre presente che quell'obiettivo che abbiamo è quello di questa copertura che permetta una vera riqualificazione urbanistica della città e in questo contesto eliminare anche la questione del passaggio livello. È stata citata anche la copertura non attuata, la copertura è stata in parte attuata con i vecchi fondi e al di là di quello che qualcuno ha detto e scritto sul giornale che si sono spesi due milioni per la progettazione dell'interamento, questo con un grande lavoro proprio di precisione con i tecnici regionali dell'assessorato ai trasporti, si è riusciti a modificare anche l'accordo di programma e dirottare circa un milione e duecentomila euro proprio alla copertura nella zona di Vittorio Veneto dal ponte di via Adua, quindi anche questi lavori partiranno tra poco, quindi anche questo non risponde al vero che non ci si sia morsi su questa cosa. Avevo altri appunti ma non li vedo più e quindi la lascerei qui. Grazie. Grazie. Grazie al consigliere Ferreo. Non vedo altre richieste, lascerei la parola al sindaco. Io credo che ci siano state dette molte considerazioni, in particolare devo dire che se dovessi fare una sintesi sono stata rimproverata da una parte di un programma stratto, poi di un programma irrealizzabile, poi di un programma poco coraggioso. Va bene così, nel senso che se questo poi lo collego con il fatto che comunque questo programma è stato presentato alla popolazione e ha riscosso un riscontro di sei persone su dieci, avrò pure un marito che è un grande esperto di comunicazione perché non sono andata a cercarmi grandi spin doctor, sarà un grande esperto di comunicazione ma devo dire che le persone poi sono molto concrete e vanno a guardare le questioni pratiche. Ho provato ad evitare di tradurre in elementi eventualmente polemici una discussione che ovviamente sta anche in posizioni che ciascuno deve assumere dal punto di vista da cui parte. Non vi è dubbio che sono emerse però delle differenze di cui occorre tener conto, di cui occorre tener conto perché, vedete, da una parte io non credo che si possa avere un'idea che il futuro della nostra città è fatto di chiusura di fabbriche, di attenzione a questo, di attenzione a quello, di attenzione a quello. L'ambiente non può distruggersi, noi dobbiamo lavorare e pensare ad un'economia che si coniuga con l'ambiente, se no abbiamo finito. E da questo punto di vista la gestione sensata dei vari livelli che mettono insieme economia, ambiente, qualità della vita, coesione sociale, avendo molto chiaro, ho raccolto le sollecitazioni, consigliere Marengo, le sue sollecitazioni sono preziose e io credo che saranno fondamentali al tavolo di confronto delle attività produttive. Avere delle persone qualificate che hanno anche esperienze da questo punto di vista ci è di grande aiuto, il Comune non è in grado di produrre posti di lavoro. La pubblica amministrazione deve probabilmente ridurre ancora ulteriormente e cercare, come abbiamo fatto in questi anni, con lo stesso personale di fare più cose, riportando all'interno della macchina alcuni servizi che facevamo all'esterno, che hanno esternalizzato e facendoli con risultati migliori. Per esempio, credo che sia superfluo avere una persona che si chiami Energy Manager, se abbiamo uno staff all'interno dell'ufficio tecnico che è riuscito a produrre risparmi sostanziosi dal punto di vista delle questioni energetiche ed interviene nei vari punti ed è in grado di… La sollecitazione che ci veniva e che è un elemento che fa parte del modo di lavorare, ma sappiamo che su questo elemento se si lavora in sinergia, in lunghezza d'onda simile… Ringrazio il consigliere Somalia sulle questioni collegate al fatto che occorre dare a chi ha bisogno, sapendo di dover dire dei no che sono a volte molto difficili, molto dolorosi, ma essere molto chiari, perché altrimenti il rischio è che in una situazione difficile chi vuole approfittarne rischi di approfittarne e questa non è questione di giustizia sociale, questo è un modo con cui si aiuta a tutti con un assistenzialismo che in tempi passati ha visto accogliere fino al 98% delle richieste di contributi. Nella mia amministrazione ho il piacere di dire che questo non è avvenuto, che sono stati detti tanti no, tanti no e anche detti tanti sì, che si è governato, lo so bene, a me fa molto impressione, il mercoledì mattina cerco di passare sempre davanti a Caritas e mi preoccupa quando davanti a Caritas vedo quelli che si chiamano di cognome Gandino, quelli che si chiamano di cognome Fissore, quelli che sono le persone che formano la base della nostra città, che non vuol dire che non ci siano altre esigenze e che queste esigenze debbano essere tra loro tenute insieme. Credo però che nel contempo qualche risposta piccola ma da questo punto di vista anche coraggiosa è stata fatta. Un numero di borse lavoro forse ancora limitato, ma su questo credo che dovremmo lavorare, impegnarsi e continuare a fare in modo che i cantieri di lavoro, le opportunità che possiamo dare badano in quella direzione. Le riqualificazioni. Le riqualificazioni hanno un intento, che è quello di migliorare la qualità della nostra città e contestualmente questo è l'unico modo con cui permetti al commercio di essere più visibile. Vedete, io questa mattina ho avuto la visita di una persona che arrivava da Fossano, una mia ex insegnante, che non vedevo da chissà quanto tempo, una persona che certamente non è del mio schieramento politico, la vedeva per un problema tecnico, ci siamo confrontate e poi andando via mi ha detto, sai Bruna ti devo confessare, mi è piaciuta da matti bra, era tanto che non venivo e mi è piaciuta vederla così fiorita. A me questo fa un piacere enorme, ma non perché io credo che il curare la qualità della nostra città, il curare, e poi ci sono molti dettagli che dovranno essere ancora curati, ma pensare per esempio di avere tra i prosetti, sperando che il fatto di stabilità ce lo permetta, la riqualificazione di via principi. È vero che magari toglierà qualche parcheggio, ma quanti parcheggi abbiamo cercato di recuperare in questi anni? Quanti parcheggi ha recuperato in cinque anni l'assessore Bonetto che questa sera, sfortunatamente per lui, non è con noi. Ma quanto lavoro è stato fatto rispetto al permettere alle persone di poter posteggiare nelle immediate vicinanze del centro per venire a lavorare, per usufruire di questi parcheggi per andare a scuola, di usufruire di questi parcheggi per avere attività produttive? Non raccontiamoci storie. Sulle questioni del commercio, gli unici interventi che può fare un'amministrazione pubblica è quella di riqualificare e di trovare delle opportunità di pubblicizzare e fare interventi che valorizzino e per cui vengano turisti e presenze esterne in città. Turisti che a volte arrivano da lontano, turisti che a volte si muovono anche soltanto da distanze più ravvicinate. Credo che le opportunità che abbiamo davanti a noi sono più difficili da capire, quelle relative all'UNESCO, più difficili da capire e anche più complicate da rispettare, perché comporteranno una serie di comportamenti conseguenti, ci imporranno di comportarci in maniera diversa, ci obbligheranno per esempio, a qualche corso di gentilezza, di modo con cui approcciarsi avendo il turismo all'interno del nostro DNA e non come elemento che è integrativo di tante altre attività. Ma una scadenza molto prossima come quella dell'Expo non possiamo immaginare di lasciarla a perdere. E l'idea di aver coniugato, e da questo punto di vista devo essere grata all'assessore Cirio, perché in quel contesto, all'interno di quella giunta, in un momento estremamente complicato, ha immaginato di destinare una cifra sostanziale per l'identificazione dell'Albabra, componendolo all'interno dell'Expo 2015. Perché a volte se lo poni all'interno di un obiettivo che ti dai, poi forse non ci riuscirai esattamente in quella scadenza, ma sai esattamente che fornisci un servizio, un servizio che è fondamentale, fondamentale perché permette agli enotreni da Hamburgo di arrivare ad Alba e non andare magari a Alessandria, permette a chi abita nella zona dell'Albese di evitare di inquinare e di girare con macchine, di andare con Pullman su Torino e permetterà a noi in futuro di avere uno snodo ferroviario, la stazione di Bra e la linea ferroviaria non sarà mai più messa in discussione. Questo credo sia un vedere delle cose ambiziose, importanti, grandi, insieme al curare i dettagli, le piccole cose. Ecco, questa è la coniugazione del lavoro che intendiamo fare. Con lo stesso spirito, con lo stesso approccio, certo, c'è una continuità amministrativa, non c'è dubbio, la sottoscritta non è cambiata, non è cambiata ma la cosa che sta cambiando è che stanno cambiando i tempi e rispetto al cambiamento dei tempi occorre metterti in movimento e cercare di prendere gli spunti che arrivano e cercare di tradurli in iniziative concrete. E quindi certamente non perderemo nessuna opportunità relativa ai bandi europei. Proprio l'altra settimana, dieci giorni fa, due nostri tecnici, l'assessore Messa, sono andati in Austria per un bando europeo che ci auguriamo possa avere uno sviluppo positivo e tutto dove possibile ci inseriamo per poter avere delle opportunità che riteniamo siano… E' un esito di due bandi europei di politica sociale. Appunto, stiamo aspettando questo esito. Non ci perderemo certamente d'animo e ci muoveremo nella direzione più diversa. Non vi è dubbio che per fare tutto questo si ha bisogno di una grande determinazione, di un po' di coraggio. Amministrare di questa stagione, fare il sindaco di questa stagione non è un'avventura facile, è un'avventura complessa, però un'avventura complessa che è anche intrigante, che mette in gioco per esempio il fatto che riparto con un gruppo consigliare che 8 su 10 è totalmente rinnovato. E' faticosissimo, ma anche molto importante, perché vuol dire che delle energie nuove entrano all'interno di questa realtà e possono apportare a chi di noi rischia di essere un po' più sclerotico anche delle indicazioni e delle sollecitazioni di cui abbiamo un gran bisogno. E poi lasciatemi una parola relativamente a come in questi anni ha cambiato pelle e ha cambiato approccio la struttura di questo ente. E' una struttura che nel giro di cinque anni ha saputo riadeguarsi con una intensità incredibile, perché molto del risultato che abbiamo avuto, del risultato che la città ha avuto, è grazie al lavoro e alla determinazione che hanno avuto i nostri collaboratori, a partire dai dirigenti, dal segretario, da tutti i dirigenti, a partire fino all'ultimo dei collaboratori, che si sono impegnati e hanno capito che il tipo di approccio che si deve avere è un tipo di approccio che deve essere mutato. Hanno capito che a fronte di una serie di sollecitazioni che arrivavano, queste potevano essere raggiunte soltanto con un impegno maggiore, con un impegno diverso, con una forma diversa. Ci sono arrivati tutti, forse non ancora. Quello che è molto importante è che ci sono arrivati in tanti e che in tanti hanno capito che se si riesce a far squadra, se si riesce ad immaginare che la comunità è più importante del singolo, si è già vinto in partenza. Grazie, signor Sindaco. Parola al consigliere Panero. Per l'espressione di voto, anche se da come si è espresso il mio capogruppo, mi sembra che sia ovvio che noi non solo siamo contrari a questo programma, ma personalmente penso di poter dire che siamo anni luce lontani da questo programma. Forse perché non sogniamo, forse perché non siamo così ottimisti come qualcuno ci dice che dovremmo essere. Io sento ancora parlare di progetti da milioni e milioni di euro. a me sembra di vivere in un momento dove si faccia fatica a pagare gli stipendi, a coprire le buche nelle strade, a mantenere quello che è la semplice e minima qualità dei servizi. sentire ancora parlare di certe opere che io ritengo faraoniche, sentire parlare di certe opere che andrebbero comunque, in qualsiasi caso, ad assorbire la quasi totalità, se non la totalità, delle risorse, che sono veramente minime, ma questo l'han detto tutti, mi sembra veramente di vederla in maniera completamente diversa. sento parlare dell'Expo, va bene, è sicuramente un'opportunità che non dobbiamo lasciarsi scappare, ma la nostra differenza sta proprio in questo. Signor Sindaco, lei parla dell'Expo, io parlo della rata che scade oggi della tassa, della Tasi, che le aziende, i cittadini, le aziende hanno dovuto pagare oggi. Mi aspettavo, speravo, forse non è questa la sede, è il modo, ma sentire da questi banchi l'intenzione di ridurla, di provare a limitarla, comunque un'intenzione di ridurre quella che è la pressione sui nostri cittadini, su di noi, perché tutto il programma che ho visto è un programma che posso anche condividere, ma se sapessi di vivere in un momento dove ci può essere la copertura finanziaria per un programma di questo tipo. Le aziende, la gente, penso che si aspetti da noi una risposta di questo tipo. Sarà terra terra, sarà banale, sarà guardarla veramente in un modo troppo scontato, ma questo è quello che la gente, secondo me, in questo momento si aspetta da noi. Forse quel poco che potrebbero risparmiare da un'aggiorazione in qualche tassa, le aziende potrebbero utilizzarle per andare avanti, per ingrandirsi, ingrandirsi in questo momento forse difficile, comunque per sopravvivere. Forse lo stesso cittadino braidese, quel poco risparmio che potrebbe avere, potrebbe utilizzarlo per mandare avanti la propria famiglia. E' questa la differenza che io voglio evidenziare, ed è per questo che noi come gruppo bradomani non possiamo esprimere un voto favorevole a questo programma. Grazie. Grazie, consigliere Panero. Mi ha chiesto la parola il consigliere Bergesio. Faccio una breve risposta soprattutto al consigliere Panero. Inizialmente io non ho grande dimestichezza con gli affari del consiglio comunale, trovo spiacevoli interventi dopo la risposta del sindaco che possa argomentare le proprie conclusioni e trovo anche spiacevoli le citazioni che sono state fatte dal consigliere Panero. nessuna opera citata dal consigliere è previsionalmente finanziata con fondi pubblici, con fondi comunali. I nostri bilanci, sia per quanto riguarda i previsionali o i consuntivi, come si può leggere dagli atti, hanno sempre agito sulle priorità. Non possiamo essere tacciati di poca concretezza o di essere lontani dalle questioni che interessano i cittadini braidesi e soprattutto le fasce più deboli. Lì noi ci siamo sempre stati in questi cinque anni e questo programma è stato scritto per essere lì anche nei cinque anni a venire. Quindi non accettiamo lezioni sul come si sta vicino ai nostri concittadini più deboli da nessuno. Grazie. Grazie, consigliere Bergesio. Consigliere Somalia. Velocemente, per ribadire solo la nostra intenzione di voto, ma mi permetta, signor Sindaco, io l'ho ascoltato attentamente e ho apprezzato il suo intervento, però le volevo sottolineare una cosa. Lo sviluppo di Bra non è partito cinque anni fa, è partito molto più indietro. A volte, dalle vostre parole, sembra che tutto ciò che è oggi frutto di un lavoro quantomeno ventennale e ogni tanto forse sarebbe opportuno rimarcarlo. Grazie. Grazie. Grazie, consigliere Somalia. Teoria, c'è ancora spazio per le dichiarazioni di voto. Consigliere Ferrero. Non per dichiarazione di voto, ma tirato per i capelli dall'intervento del consigliere Panero. Anche a me dispiace parlare dopo l'intervento del sindaco, ma quando sento così a scandalizzarsi di quando si parla di milioni, sembra che non ci si renda conto di cosa voglia dire che questa elettrificazione della Bra alba, che costa nove milioni, non uno, finanziato dalla Regione e non da una lira, da un euro di fondi comunali, gli stessi progetti di cui parlavo prima, mai nessuno ha pensato che potesse essere l'amministrazione comunale a poter far fronte a una spesa simile. Siamo più che certi che questo non può avvenire che da enti sovraordinati, ma molto sovraordinati. E sono d'accordo, Consigliere Somaglia, che contiamo molto sulle possibilità di intervento del quasi concittadino Cirio. E devo dire qui, lo dico, perché è un'occasione questa per dirlo, è questo, io ho detto quasi concittadino perché ogni tanto col trattino ci consideriamo cugini. e devo qui dire pubblicamente che questo intervento della Regione di nove milioni su questo territorio ha dato una grande mano proprio lui. E contiamo ancora su di lui affinché dal posto che ricopre oggi possa ancora portare altri contributi su questo territorio. Si tenga presente che questi nove milioni sono lavori che si fanno qui e faremo di tutto che nell'appalto ci sia scritto che i materiali si comprino in gran parte qui che la parte di mano d'opera forse meno qualificata sia del posto che la logistica si sviluppi in zona. Quindi ecco che il consigliere Panero quando si parla di milioni si vuole dire queste cose non vuol dire soltanto le buche o uno stipendio di fine mese. Chi amministra una città deve fare questo tipo di ragionamenti. Grazie. Grazie al consigliere Ferrero. La parola al consigliere Tripodi. Prendo la parola per l'espressione di voto voteremo come ha già detto il compagno di banco Panero che mi dispiace se ha fatto torta a qualche d'uno in quest'aula se ha preso la parola dopo il commento e l'intervento del sindaco ma ad oggi qui ci viene detto se possiamo o non possiamo parlare o meno dal presidente mi dispiace a qualcuno questo non piace. Comunque, secondo il mio parere questo utilizzo di bontone il bontone istituzionale è uguale al dire scusi perché visto che ho sentito consigliere Isu parlare di bontone non so, milazzo perché a me da fastidio se nel momento in cui io prendo la parola qualcuno mi parla da sotto perché io non lo faccio solitamente quindi penso che qui siamo in una assemblea libera dove siamo liberi di poter esprimere la propria opinione prima o dopo l'altro qua siamo pari rappresentiamo tutti quanti i cittadini quindi ti chiederei per favore comunque, cambiando completamente discorso non abbiamo parlato di milioni come dice il consigliere Ferrero per dire che noi siamo contrari a elettrificazioni o altro stiamo semplicemente dicendo perché sappiamo benissimo che non ci sono finanziamenti del tutto comunali per poter fare e costruire delle opere del genere il consigliere Panero non ha detto assolutamente di essere contro l'elettrificazione comunque va bene così stiamo dicendo semplicemente che ad oggi stare coi piedi per terra significa che forse agli enti sovracomunali agli enti nazionali bisognerà chiedere qualcos'altro perché se prendiamo e diciamo con vanto che ci debbano essere dei volontari che devono pitturare le proprie classi che ci debbano essere dei genitori che portino la carta igienica nelle scuole io questo come me lo spiego quindi forse quindi forse è una cosa fantastica lo so che è una cosa fantastica ma dovrebbe essere l'ente sovracomunale a garantire una cosa del genere signor sindaco questo è quello che penso io che poi ci siano grazie a Dio associazioni di volontariato che si mettono insieme a dare la loro una nodopera per svolgere determinati lavori è una cosa meravigliosa però la cosa della quale mi preoccupo io è che si parla di grandi opere quando gli enti sovracomunali forse non ascoltano la voce di quelle persone che si accontenterebbero delle piccole opere grazie grazie consigliere Tripodi se non ci sono altri interventi il sindaco può replicare se ritiene fa bene così allora pongo in votazione la proposta solito modo segnaliamo la nostra presenza presenza segnalata dichiaro aperta la votazione si può votare signor sindaco si deve votare abbiamo ricondotto la questione sui binari giusti tanto per stare in tema dell'elettrificazione chiusa la votazione 11 voti a favore 6 voti contrari passiamo alla proposta numero 6 avente ad oggetto conferma indennità di carica al presidente del egettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale delle commissioni consigliari permanenti e delle commissioni comunali previste per legge per l'anno 2014 penso che tocchi all'assessore alle finanze se ritiene opportuno illustrare altrimenti si conferma è chiaro tutto prego scusa ritengo che sia chiara già nel corpo della delibera si conferma la riduzione tutto spiegato le motivazioni e anche il quanto penso che poi se c'è bisogno di chiarimenti siamo a disposizione grazie assessore se non ci sono interventi pongo in votazione la proposta numero 6 per la quale poi no non è prevista la immediata eseguibilità dalla prossima segnaliamo la presenza però se non c'è segnaliamo la presenza segnalare la presenza grazie mancano ancora due però se sono fuori non ci sono gli scrutatori prendano atto che mi aiutino quindi confermate 15 su 17 presenti bene possiamo procedere quindi al voto prego all'unanimità all'unanimità dei presenti 15 su 17 chiedo scusa all'unanimità dei presenti 15 su 15 certo è l'ora proposto numero 7 qui prepariamoci a giocare un po' su questi sistemi qui perché ne avremo parecchi proposta al consiglio comunale vento d'oggetto nomina di commissioni consigliari per una premessa di cui però i colleghi consiglieri sono a conoscenza nella riunione di capigruppo del primo luglio si era previsto e si era proposto che è stato accolto all'unanimità la necessità un po' per la riduzione del numero dei consiglieri un po' per sveltire i lavori delle commissioni e per non appesantire troppo l'organizzazione della macchina comunale di ridurre dalle attuali 11 a 9 le commissioni consigliari permanenti accorpando in questo modo la commissione viabilità alla commissione dei lavori pubblici e la commissione statuto a quella del regolamento del consiglio comunale pertanto la proposta che questa sera andiamo a votare comprende nove commissioni che sono quelle contenute nel regolamento del funzionamento del consiglio comunale vale a dire la commissione regolamento la commissione finanze e tributi urbanistica servizi appaltati lavori pubblici socioassistenza ambiente polizia mortuaria e sicurezza quando sarà poi funzionante nel pieno dei suoi poteri la commissione regolamento provvederà come primo atto alla modifica dello regolamento stesso che contiene le indicazioni per la modifica dello stesso regolamento scusate non è un gioco di parole ma è così spero di essere stato sufficientemente chiaro morale della favola stasera andiamo a eleggere i componenti delle nuove commissioni quindi invito i singoli capigruppo a proporre per ciascun gruppo i propri componenti ricordo che la votazione va fatta commissione per commissione il voto è palese a incominciare dalla commissione regolamento del consiglio comunale chiedo ai capigruppo di indicare i rispettivi componenti chiamo io partito democratico viaggio conterno impegno per bra è evidente comunque lo diciamo comunque il nome consigliere asteggiano per il gruppo politico con simile per bra cornaglia cornaglia per il gruppo politico bra città per vivere è evidente ci penso a maggiù a maggiù per il gruppo politico forza italia e somaglia che fa anche quasi rima per il gruppo politico sommaglia per bra dopo lunghe decisioni abbiamo deciso per me Marengo per il gruppo politico bra domani tripodi e per il gruppo politico movimento 5 stelle mi pare evidente all'asia grazie pongo in votazione questa prima tornata di consiglio comunale segnaliamo la presenza possiamo votare io ho votato io ho votato prima benissimo presenti 17 votanti 17 all'unanimità siamo alla seconda commissione commissione finanze e tributi chiedo di nuovo ai consiglieri di indicare i loro componenti per il gruppo politico partito democratico chiedo scusa per la commissione ambiente no finanze e tributi per Gesio per il gruppo politico impegno per bra astigiano olivio per il gruppo politico consibile per bra ambrogio ambrogio per il gruppo politico bra città per vivere stiamo giù stiamo giù per il gruppo forza italia e somaglia per il gruppo politico somaglia per bra marengo per il gruppo politico bra domani tribodi e per il gruppo politico all'asia procediamo alla votazione segniamo sindaco bene possiamo votare chiusa la votazione un'animità passiamo alla commissione urbanistica per il gruppo partito democratico impegno per bra astigiano eravamo al gruppo politico impegno per bra astigiano consibile per bra ferrero bra città per vivere forza italia Elena somaglia per bra sempre il solito marengo bra domani panero cinque stelle all'asia idem come sopra segnale la presenza dovremmo essere a posto si può votare ma mille volte eh pure così stesso risultato questo è immediatamente esecutivo sì passiamo alla commissione servizi appaltati per il partito democratico ci va un momento marina iso impegno per bra astigiano consibile per bra gemma gemma bra città per vivere amma giù forza italia somaglia somaglia per bra forse marengo bra bra domani tripodi cinque stelle all'asia segnaliamo la presenza sindaco mi pare che tu debba segnare la presenza bene si può votare perché si vede che c'è qualche tasto che è collegato ad un ho votato il mio bene anche qui all'unanimità commissione lavori passi ricompatti dovrebbe essere posto partito democratico bergesio impegno per bra astigiano consibile per bra bra città per vivere amma giù forza italia forza italia elena somaglia per bra marengo bra domani panero movimento 5 stelle all'asia grazie grazie segniamo la presenza ci siamo possiamo votare sono io qui è la cia che mi intercetta scusate devo fare devo fare una richiesta di privacy ci siamo all'unanimità commissione socio assistenza bene per il partito democratico maria milazzo impegno per bra astigiano consibile per bra cornaia bra città per vivere masù forza italia somaglia somaglia per bra marengo bra domani tripodi movimento 5 stelle all'asia segniamo la presenza bene possiamo votare spero che non suoni non suona bene chiusa la votazione unanimità commissione ambiente partito democratico viaggio conterno impegno per bra astigiano consibile per bra perero bra città per vivere aboggiù forza italia elena somaglia per bra marengo bra domani panero movimento 5 stelle all'asia coraggio che stiamo quasi finendo noi abbiamo ancora due poi segniamo la presenza aperta la votazione chiusa la votazione all'unanimità commissione non è ancora l'ultima dato il tema ma c'è ancora una nonostante il tema e non è ancora l'ultima per il gruppo politico partito democratico milazzo impegno per bra astigiano consibile per bra ambrogio ambrogio bracità per vivere amaggiù forza italia elena somaglia per bra l'unica cui marengo avrebbe rinunciato volentieri bra domani te panero non ho capito panero panero grazie movimento 5 stelle all'asia possiamo procedere si segna la presenza si si alla fine di tutto di esire possiamo votare anche questa l'unanimità finiamo in sicurezza partito democratico iso impegno per bra astigiano consibile per bra gemma bra città per vivere amaggiù forza italia somaglia somaglia per bra sicuramente marengo bra domani panero panero e movimento 5 stelle all'asia lo diciamo con estrema sicurezza è all'asia è questa si poi ce la die segnaliamo la presenza chiuso possiamo votare anche questa è all'unanimità adesso dobbiamo votare la presa d'atto della conclusione di tutte queste nove sotto votazioni pongo in votazione segniamo la presenza bene apriamo la votazione chiudiamo la votazione all'unanimità ancora votiamo l'eseguibilità della delibera segnaliamo di nuovo la presenza sempre che l'aggeggio lo lasci dobbiamo aspettare che compaia la mano ecco la mano panero tripodi ecco chiusa votiamo all'unanimità anche la dichiarata eseguibilità come allora vi ringrazio ancora nei nostri confronti nei miei confronti l'altro giorno ricordo e adesso stanno per essere distribuito sono già state distribuite le convocazioni per domani pomeriggio a partire dalle ore 16 con questa cadenza di 20 minuti io convoco tutti i componenti cioè commissione per commissione ciascuna commissione dalle ore 16 è prevista poi la conclusione alle ore 19 all'ordine del giorno ci sarà l'elezione del presidente e del vicepresidente questo per consentire la nomina che sarà a scrutinio palese all'interno delle singole commissioni ciascuna commissione di volta in volta questo per consentire alle commissioni stesse di partire e di essere operative il più breve tempo possibile quindi in teoria partire già da domani pomeriggio grazie passiamo adesso alla proposta numero 8 proposta avente ad oggetto commissione edilizia la commissione edilizia è composta dal presidente che la presiede ovviamente è da 8 componenti tutti e 9 i componenti sono eletti dal consiglio comunale secondo quanto avete ricevuto nel faldone di documentazione i membri eletti questo per regolamento di edilizia del nostro comune devono essere scelti all'interno di cittadini che oltre ai requisiti chiaramente di legge politici eccetera il godimento dei diritti politici devono avere anche una specifica competenza nella materia in oggetto in particolare tra i 9 devono esserci almeno 50% cioè 5 in possesso del diploma di laurea tra questi 9 devono esserci obbligatoriamente un esperto in materia di valori ambientali e della loro tutela un esperto in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici un esperto in geotecnica e un legale esperto in procedure amministrative la votazione di questa commissione è un po' macchinosa nel senso che prima si procede ad eleggere i quattro componenti che ho testecitato cioè quelli in possesso dei specifici requisiti geotecnici urbanistici scusate legali eccetera la votazione è a scurtinio segreto viene data adesso la scheda su ogni scheda bisogna riportare un nome solo quindi faremo quattro votazioni inserendo un nome solo gli altri cinque componenti della commissione saranno invece votati in una scheda sola sempre a scrutinio segreto quindi ci saranno cinque votazioni e poi ci sarà anche la votazione per elezione del presidente agli atti della segreteria dopo la convocazione del consiglio comunale sono arrivati i seguenti curriculum curricula plurale signor giorgio sandrone ingegnere libero professionista laurea in ingegneria civile signor angelo fasciglione dipendente pubblico diploma di geometra signor sergio roffo geologo libero professionista laurea in scienze geologiche signora cinzia groppo architetto libero professionista laurea magistrale in architettura e iscrizione all'ordine degli architetti della provincia di cuneo signora lorena mattis geometra libero professionista diploma di geometra iscritta al collegio geometri della provincia di cuneo signor giacomo farinasso geometra libero professionista diplomato chiaramente geometra iscritto al collegio geometri della provincia di cuneo signora alessio bernocco ingegnere libero professionista laureato in ingegneria ed ile iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di cuneo signora laura della ferrera qualifica professionale ingegnere libero professionista laurea in ingegneria ed ile iscritta anch'ella all'ordine dell'ingegneria di provincia di cuneo signora anna brizzio avvocato libero Signor Emanuele Rista, ingegnere libero professionista, laurea in ingegneria meccanica, iscritto all'ordine dell'ingegnere della provincia di Cuneo. Signor Federico Sandrone, dipendente pubblico, istruttore direttivo, diploma di geometra. Questi sono i curriculum che sono arrivati ai nostri uffici. Ripeto, adesso dobbiamo procedere alla votazione dei primi quattro componenti e, ripeto, uno per volta, esperto in materia di valori ambientali, impianti tecnologici, geotecnica e procedure amministrative. Chiedo le proposte per l'elezione del primo componente. Quindi io li chiamo uno per volta, così magari ci facilitiamo anche. Votiamo l'elezione di un esperto in tematiche della lettera A, vale a dire l'architetto, valori ambientali e della loro tutela. Prego, consigliere Somaglia. Sì, io propongo l'architetto, dottor Cinzia Groppo, che ha i requisiti per assolvere questo compito. Grazie, grazie consigliere. Ci sono altre proposte? Quindi procediamo alla votazione. Un nominativo solo sulla scheda, scrutinio segreto. Si preparino gli scrutatori, dopo aver votato, ovviamente. Grazie. Grazie. Prego gli scrutatori. No, 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 tirate fuori una per una e io proclamo. Aprite pure. Architetto Cinzia Groppo. Uno. Architetto Groppo. Due. Architetto Groppo. Tre. Groppo. Quattro. Groppo. Cinque. Groppo. Sei. Groppo. Sette. Groppo Cinzia. Otto. Groppo. Nove. Groppo. Dieci. Groppo. Undici. Groppo. Dodici. Groppo. Tredici. Groppo. Quattordici. Groppo Cinzia. Quindici. Groppo. Sedici. Architetto Groppo. Diciasette su diciassette. Proclamo eletto quale membro esperto della Commissione di Lizia aventi i requisiti dell'Ordine degli Architetti la dottoressa Cinzia Groppo. Lettera B. Passiamo alla lettera B. votazione per l'elezione di un esperto aventi i requisiti compatibili con materia di impianti tecnologici e contenimento dei consumi energetici e chiaramente sì come è stato detto prima iscrizione dell'Ordine degli Ingegneri o mi aiuta il Vice Secretario perché ho perso il foglio o collegio dei periti industriali. Benissimo. Accettiamo le proposte. Consigliere Allasia. Propongo l'ingegnerrista per questo ruolo. È un ragazzo giovane, un trentenne, però è da cinque anni che ha maturato un'esperienza abbastanza solida in ambito impiantistico e quindi lo ritengo un buon candidato. Grazie, consigliere Allasia. Non ci sono altre, quindi dichiaro aperta la votazione. Grazie. 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 Prego. Prego, Presidente. Bene. Procediamo allo spoglio. Rista 1 Rista 2 Rista 3 Rista 4 Rista 5 Rista 6 Rista 7 Rista 8 Rista 9 Ingegner Rista 10 Ingegner Rista 11 Ingegner Rista 12 Ingegner Rista 13 Ingegner Rista 14 Rista 15 Rista 16 Rista 17 su 17 Bene, non mi rista che proclamare eletto all'ingegner Rista all'unanimità. Passiamo adesso alla votazione per il componente iscritto all'ordine dei geologi o degli ingegneri. Esperto in geotecnica proposte, prego Consigliere Bergesio. Proponiamo il geologo Sergio Rolfo in possesso di tutte le caratteristiche previste e con una dose di esperienza importante per la Commissione. Grazie, consigliere Bergesio. Se non ci sono altre proposte, dichiaro aperta la votazione. Grazie. 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 Aspettato. Prego gli escoltatori. Ho il geologo, dai. Rolfo 1, Rolfo 2, Rolfo 3, Rolfo 4, Rolfo 5, Dottor Rolfo 6, Dottor Rolfo 7, Rolfo 8, Rolfo 9, Rolfo 10, Dottor Rolfo 11, Rolfo 12, Dottor Rolfo 13, Rolfo 14, Rolfo 15, Rolfo 16, Rolfo Dottor 17. Proclamo eletto il Dottor Rolfo. Procediamo adesso all'elezione del rappresentante di cui è il punto D, legale, esperto in procedura amministrativa e in urbanistica, iscritto all'ordine degli avvocati. Prego le proposte. Consigliere Bergesio. Per il ruolo proponiamo l'avvocato Anna Brizio, un avvocato operante sul territorio di Bra, molto stimata. E donna. Vicepresidente dell'ordine degli avvocati. Grazie, consigliere Bergesio. E donna. Se non ci sono altre proposte si può procedere al voto. Se arrivano anche le schede qui. Schede. Grazie mille. Grazie. Adesso ho deciso che chi lo so, ma chi è un piatto che ci c'è? Un segno di riconoscimento? A facili con l'apertura? No. Sì, sì, può c'è. Sì, sì, può c'è. Prego, gli scrutatori. Prego. Avvocato Anna Brizio. Avvocato Anna Brizio. Avvocato Brizio. Avvocato Brizio Anna. Quattro. Avvocato Brizio. 17. Proclamo eletto l'Avvocato Anna Brizio. Adesso un attimo di attenzione. Passiamo alla votazione per la elezione dei restanti cinque componenti. Quattro sono già laureati. Di questi cinque, uno deve essere laureato. Se ce n'è più di uno, chiaramente non ci sono problemi. La votazione avviene per schede segrete fino a cinque nominativi per scheda. Accetto, anzi aspetto, le proposte. Prego, consigliere Bergesio. A nome della maggioranza propongo l'ingegner Sandrone Giorgio, l'ingegner Laura Della Ferrera, l'ingegner Alessio Bernocco e il geometra Farinasso. Grazie, consigliere Bergesio. Consigliere Tripodi. Come gruppo Bradomani propongo Angelo Fasciglione. Grazie. Se non ci sono altre proposte, passiamo alla votazione. Scusa, Sandrone Giorgio, Della Ferrera, Laura, Poi, Bernocco con una C sola, Alessio, Farinasso Giacomo, Fasciglione, Angelo. Farinasso e Fasciglione. Attenzione, ecco, solo per l'omonimia, se vuoi dire Sandrone. Sì, ricordo che nel curriculum che sono arrivati c'era un'omonimia tra Giorgio Sandrone e, se non ricordo male, Federico Sandrone. La proposta riguarda l'ingegner Giorgio Sandrone. Che però è chiaro che, dove c'è, è chiaro, per evitare omonimie scrivete anche magari il titolo o il nome, meglio ancora. Cognome e nome. Sì, infatti io lo dirò, lo dirò, chiederò. Grazie. 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 Prego. Prego, scrutatori. allora vai Sandrone Giorgio uno Bernoco uno Della Ferrera uno Faciglione uno Sandrone Giorgio due Della Ferrera due Bernoco due Farinasso uno Ingegner Sandrone Giorgio tre Della Ferrera tre Bernoco tre Farinasso due Faciglione due Sandrone Giorgio quattro Della Ferrera quattro Bernoco quattro Farinasso tre Faciglione tre Faciglione quattro Farinasso quattro Della Ferrera cinque Sandrone Giorgio cinque Bernoco cinque Giorgio Sandrone sei Della Ferrera sei Bernoco sei Farinasso cinque Faciglione cinque Sandrone Giorgio sette Della Ferrera sette Bernoco sette Farinasso sei Faciglione sei Sandrone Giorgio otto Della Ferrera otto Bernoco otto Farinasso sette Faciglione sette Sandrone Giorgio nove Della Ferrera nove Bernocco nove Farinasso otto Faciglione otto Sandrone Giorgio dieci Della Ferrera dieci Bernoco dieci Farinasso nove Faciglione nove Sandrone senso senza ulteriore specificazione allora questo non vale nullo Faciglione aspetta Faciglione dieci Farinasso dieci Bernoco undici Della Ferrera undici eh no no Sandrone Giorgio undici Della Ferrera dodici Farinasso undici Bernoco dodici Faciglione undici Sandrone Giorgio dodici Faciglione dodici Farinasso dodici Bernoco tredici Della Ferrera tredici Sandrone tredici senza ulteriore specificazione ah no non vale Faciglione Faciglione tredici Farinasso tredici Bernoco quattordici Della Ferrera quattordici Sandrone Giorgio tredici Faciglione quattordici Della Ferrera quindici Farinasso quattordici Bernoco quindici Sandrone Giorgio quattordici quattordici Della Ferrera sedici Bernoco sedici Farinasso quindici Faciglione quindici ingegner Giorgio Sandrone quindici Della Ferrera Diciasette Bernoco Diciasette Farinasso sedici Faciglione sedici quindi abbiamo scusa te riscrivo Sandrone Della Ferrera Bernoco Farinasso Farinasso Faciglione quindi quindici diciassette diciassette sedici e sedici bene capisce spero proclamo il risultato della votazione Sandrone Giorgio quindici quindici voti Della Ferrera diciassette Bernoco diciassette Farinasso sedici voti Faciglione sedici voti questi sono proclamati eletti nella commissione edilizia dobbiamo adesso passare all'elezione del presidente della commissione che spetta anch'esso anch'egli al consiglio comunale sono in attesa di candidature prego consigliere Bergesio intanto la maggioranza propone come presidente della commissione edilizia l'ingegner Laura Della Ferrera grazie consigliere Bergesi se non ci sono ulteriori candidature possiamo votare anche qua dare per presa d'atto e via finale e via si la cosa è geniale poi io posso domani possono già ah quindi due qui grazie a mezza notte Grazie. Della Ferrera, 6, Della Ferrera, 7, Della Ferrera, 8, Della Ferrera, 9, Della Ferrera, 10, Della Ferrera, 11, Della Ferrera, 12, Bianca, 3, Della Ferrera, 13, Groppo, Groppo, 1. Finita? Sì. Quindi dal voto risulta che è stato eletto Presidente l'ingegner Della Ferrera con 13 voti, tre schede bianche e un voto ingegner Groppo. Adesso votiamo con il sistema elettronico la presa d'atto della composizione della Commissione Comunale Edilizia. Pertanto io dovrei a questo punto dirvi il nome di tutti i componenti, se trovo il foglio. Grazie Sindaco. Quindi la Commissione Edilizia risulta così composta. Presidente, ingegner Della Ferrera, componenti, architetto Groppo, ingegner Rista, dottor Rolfo, avvocato Brizio, ingegner Giorgio Sandrone, ingegner Bernoco, geometra Farinasso, geometra Fasciglione. Passiamo al voto elettronico. Segnaliamo la presenza. Bene, possiamo votare. Chiusa all'unanimità. E infine, votiamo la immediata. Se volesse, forse già anche stasera, si potrebbe riunire la Commissione Edilizia. No, no, ma chiaro, si può. Stasera magari no. Segnaliamo la presenza. Possiamo votare. All'unanimità dichiarata immediatamente eseguibile. Bene. Proposta numero 9. Nomina collegio a revisori contabili per il triennio, dal 1 agosto del 2014 al 31 luglio del 2017. Io darei per assodati tutti i criteri che sono contenuti nella premessa della delibera, altrimenti facciamo veramente domani mattina. In base ai regolamenti vigenti, voi sapete che la procedura per l'individuazione dei revisioni dei conti è cambiata nel giro di cento da poco tempo. Sono stati estratti a sorte tre nominativi per questo ruolo e sei nominativi in riserva. La prefettura di Cuneo ha trasmesso al Comune in data 9 aprile il verbale delle operazioni, pertanto sono designati i seguenti nominativi. Lorenzo Bezza, dottore commercialista con studio in Cuneo, Pasquale Fiumara, ragioniere commercialista con studio in Collegno, provincia di Torino, e Pierluigi D'Apino, ragioniere commercialista con studio in Acquiterme. La parola al sindaco per una breve comunicazione. Ovviamente ringraziamo, hanno chiuso oggi il loro mandato, i tre consiglieri, i tre revisori uscenti, il dottor Oricco, il dottoressa Scherzello e il dottor Santiago Mascarello per il modo molto collaborativo, di controllo e collaborativo con cui abbiamo lavorato in questi anni. Grazie signor sindaco. Se non ci sono interventi si passa alla votazione. Stesso schema. Sì? No, no, palese, palese. Palese. Quindi segnaliamo la presenza. Sì, certo. Diudì, no, no. Di spesa, di spesa. Ci siamo. Possiamo votare. All'unanimità, 17. Siccome le proposte 10, 11 e 12 sono tre delibere gemelle, fermo restando la votazione suddivisa per ciascuno, li possiamo trattare e discutere insieme. Tanto si tratta di federalismo demaniale, conferma richiesta di attribuzione e accettazione preventiva della Caserma Generale Guala, attuale asinanido, deposito, sede, croce rossa, conferma richiesta di attribuzione e accettazione preventiva dell'esca ricovero, villa favorita, ex immobile militare, e conferma richiesta di attribuzione e accettazione preventiva della Caserma Cavagli, attuale biblioteca, museo del giocattolo, polifunzionale. Penso che il sindaco voglia e lo debba voglia illustrarle. Si tratta di una procedura che è partita qualche tempo fa, di cui sono molto grata agli uffici, all'ufficio patrimonio, che l'ha seguita con molta attenzione e determinazione, e già nell'ultimo Consiglio Comunale, forse negli ultimi due Consigli Comunali, avevamo portato, perché c'era stato comunicato dal Ministero, la demanializzazione, la comunicazione al Comune di vari edifici e aree che in questi anni sono state oggetto di investimenti importanti da parte dell'amministrazione, che era stato oggetto di un lungo contenzioso, perché in una certa fase si voleva che il Comune li pagasse. Fortunatamente il penultimo Governo ha deciso di fare un elenco di beni che potevano essere demanializzati e di chiedere al Comune se fosse interessato. Noi all'interno di un elenco abbiamo scelto tutte quelle strutture che potevano essere in qualche modo di interesse per la collegità, molte di quelle erano caserme, tutta l'area del quartiere delle caserme, che a partire dal 1977 sono state oggetto nelle varie amministrazioni di interventi di riqualificazione molto importanti. Oggi sembra quasi paradossale che la sede della Croce Rossa non fosse nostra, ma nonostante non fosse nostra siamo usciti a fare gli interventi di riqualificazione e per fortuna insomma che con grande determinazione nelle varie amministrazioni che si sono susseguite queste aree non sono state lasciate all'abbandono come avvenute in altre realtà. E sarebbe stato veramente molto spiacevole e insensato che dopo aver investito dei soldi ci venissero chiesti degli altri soldi per poterli acquisire. Ha chiesto la parola il consigliere Ferrero. Io vorrei fare un breve intervento sulla delibera numero, in particolare sulla 11. Le tre deliberazioni hanno oggetto comune, come comune e l'interesse affinché il trasferimento degli immobili dal demagno al comune avvenga in tempi brevi, con tempi brevi, modalità e prescrizioni, quelle previste appunto dalla legge del cosiddetto federalismo demagnale. Con questa deliberazione andiamo a formalizzare la richiesta di attribuzione nonché l'accettazione preventiva degli immobili descritti e la loro destinazione d'uso. Un uso diretto per finalità pubblico-istituzionale, vale a dire scuole e affini, un uso per finalità pubblico-sociale diretto, vale a dire il nuovo magazzino comunale. Di questi cinque immobili, oggetto delle tre delibere, di quattro abbiamo conoscenza piena. Dell'ultimo, ex ricovero militare della vila favorita invece, credo che la conoscenza sia solo di tipo documentale e su tale base è stata formulata la sua possibile destinazione d'uso. Ora, anche in relazione alla recente comunicazione della direzione regionale dell'Agenzia del Demagno, che è allegata alla proposta di delibera, che nel rilassiare il parere positivo al trasferimento dell'immobile al Comune, inserisce, cioè mette un po' in evidenza, due note, una clausola e una possibilità. La clausola recita. Questo passaggio avviene, ha già dato parere positivo, fatta salva, la prescritta verifica di interesse culturale resa sinnecessaria in considerazione dell'epoca costruttiva dell'immobile. Questo quanto è scritto. La possibilità invece, dice, la possibilità di effettuare un sopralluogo sul posto, quindi entro 120 giorni, da quando l'Agenzia ha mandato questa nota, che se non erro è di aprile. Grazie. 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 Ancora delle possibilità d'uso a seguito del sopralluogo dell'immobile, perché noi ad oggi abbiamo visto un pezzo di carta, e solo a seguito confermare l'alliedazione o modificare anche, perché no, le modalità d'uso nella richiesta di attribuzione. Ecco, questo io proporrei al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, di valutare queste due note possibilità che ci sono in questa lettera dell'Agenzia. Dell'Agenzia. Grazie. Grazie, consigliere Ferrero. Ha chiesto la parola il Consigliere all'Asia. Sì, avevo proprio qualcosa da dire riguardo al punto su cui si è soffermato il Consigliere Ferrero. Io domenica mattina sono andato a visionare questo manufatto insieme a un gruppo di volontari formatosi da poco. In sostanza si tratta, per quello che ne ho potuto capire io, si tratta di un rifugio militare, quindi semplificando un bunker, in sostanza, che ha anche una qualche valenza storica per qualche avvenimento legato alla Seconda Guerra Mondiale. Qui chiedo l'assistenza poi dell'assessore Bailo a riguardo, che so che forse è stato interpellato sull'argomento o meno. Ecco, nella proposta di Delibera, si facendo a un interesse di terzi per l'alienazione poi di questo bene immobile, probabilmente perché vicini di terreno. Io volevo solo farmi portatore da parte di questo gruppo che si chiama Brassotterranea, che sta cercando di valorizzare la Brassotterranea ed è appassionato di questi temi. Volevo chiedere se era possibile, prima dell'alienazione, nel caso si sia d'accordo con la mozione, di dare tempo all'associazione o ad altri che vogliano intervenire, di dare un valore, un progetto di valorizzazione culturale e storica a questo manufatto che apparentemente non ha al momento e ben tenuto comunque, non è mantenuto. Ho potuto notare anche che c'era un intonaco pressoché intatto, direi per il 90% della superficie. ovviamente il problema è che ha tre accessi, quindi si notano presenze, fuochi, scritte, eccetera, in maniera contenuta e immagino che la preoccupazione dei vicini sia il fatto che quel posto possa diventare un luogo dove le persone arrivano di notte, insomma, con tutti i problemi del caso. Quindi nel caso si accetti la proposta direi che la prima cosa sarebbe quella di chiudere gli accessi. e poi di dare tempo prima dell'eventuale alienazione se non si trovano altri scopi a questa associazione di fare una proposta progettuale riguardo all'eventuale utilizzo della struttura. Grazie consigliere. Allora, come dirigente responsabile non posso esprimere parere favorevole perché chiaramente non abbiamo gli elementi necessari. Sarebbe stato auspicabile che se c'erano delle cose di questo delle intenzioni di questo genere visto che ne avevamo già parlato anche in conferenza di capigruppo fossero pervenute prima. Per cui non esprimo parere favorevole con la modifica del testo della delibera e propongo che eventualmente se ne discuta più approfonditamente e si veda un attimo cosa fare. Allora, le altre due andiamo avanti e questa qua sono la 11 stiamo parlando della delibera numero 11 ci sono altri interventi sulla 10 e sulla 12 non ci sono più interventi allora prendiamo atto prendiamo atto del ritiro della delibera numero 11 pertanto si vota la 10 e la 12 se non ci sono ulteriori interventi pongo in votazione la delibera numero 10 attribuzione e accettazione preventiva della caserma generale guala attuale asilo nido deposito e sede croce rossa italiana segnaliamo bene apriamo la votazione votazione chiusa all'unanimità votiamo votiamo la immediata votabilità segnaliamo la presenza bene passiamo alla votazione c'è qualche problema questa è la 10 questa è la 10 questa è la 10 della 10 abbiamo già votato se mi permettete una battuta il demagno anzi il demonio ci ha messo la coda scusate ma per alleggerire un po' questi tempi morti adesso adesso dobbiamo votare la 12 votiamo la 12 della 12 bisogna ancora votare tutto siamo alla 10 abbiamo finito la 10 sono usciti tutti i verbali della stampa eccetera anche la die bene allora passiamo al numero 12 caserma cavalli segnaliamo la presenza presenti tutti giusto benissimo all'unanimità sulla 12 dobbiamo votare nuovamente l'immediata eseguibilità confermiamo la presenza mi pare che siamo a posto possiamo votare bene all'unanimità proposto numero 13 approvazione della sede del giudice di pace di bra e di numero 11 altri comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 156 del 2012 relaziona il sindaco questa delibera è frutto di un lavoro che è partito molto tempo fa di una scelta soprattutto che è partita molto tempo fa da parte del nostro comune di mantenere in piedi l'ufficio dei giudici di pace non ripeto quanto ho già detto nel intervento programmatico dico soltanto che questa cosa è stata possibile anche grazie alla condivisione dei comuni del nostro territorio è una convenzione che dura un anno una convenzione che ci qualifica come una delle due realtà regionali nella quale viene mantenuto l'ufficio dei giudici di pace anche questo è un modo con cui si valorizza il centro di una città il luogo una comunità non lasciandola depauperare dal punto di vista dei servizi soprattutto di quei servizi che hanno bisogno di una prossimità hanno bisogno di hanno un numero molto alto di pratiche da svolgere e quindi di un luogo in cui potersi rivolgere che non diventi asti piuttosto che alba ovviamente questa cosa comporta un onere per il nostro bilancio comporta un onere rappresentato dal fatto che noi abbiamo trasferito tre persone non a tempo pieno ma comunque tre persone a lavorare perché l'indicazione che è stata data è stata dal punto di vista nazionale dal governo Monti è stata se qualcuno vuole mantenersi il giudice di pace se lo paga e quindi in quell'occasione abbiamo fatto questa scelta una scelta che riteniamo sia di valorizzazione di un servizio direi che va nella stessa direzione di quanto è stato fatto in analoga situazione per quanto riguarda il problema dell'ufficio stranieri e l'ufficio passaporti anche in quel senso per facilitare chi ha lo svolgimento di pratiche eccetera si è andati in quella direzione direi che si tratta questa scelta arriva da governi precedenti il progetto della riorganizzazione della magistratura dei tribunali è un progetto che arriva da molto più lontano potrei dire che è un federalismo per omissione nel senso che si omette di fare un servizio dal livello centrale e si lascia eventualmente questo servizio a svolgersi da parte delle amministrazioni che in modo più sensibile rispondono credo che su alcuni servizi cardine e comincio a pensare che tra questi ci sia anche la sanità bisognerà magari ripensare un grande centralismo so che faccio una virata di 360 gradi rispetto magari a dichiarazioni che ho fatto in passato ma comincio ad immaginare che la magistratura il servizio della giustizia piuttosto che il servizio della sanità forse hanno bisogno di quello della scuola hanno bisogno di una visione che sia identica da Bolzano a Taormina questi modi sono modi con cui rispondiamo in una maniera come dire perché valutiamo che sia un servizio per i nostri cittadini non credo che però sia il modo corretto con cui a livello nazionale viene riesaminata la riorganizzazione dei servizi detto questo questo non significa che alcuni giudici di pace sedi di giudici di pace dovessero essere chiusi Canale svolgeva una ventina di pratiche all'anno 50 pratiche all'anno il tenero aperto il tenero chiuso dal punto di vista dei cittadini dell'Interland non cambiava ma in situazioni nelle quali le pratiche superano 1500 arrivano 2000 pratiche credo che ci sia qualche elemento da tenere presente ma detto questo nei tagli lineari si è valutato che siccome questa era una sede collegata ad una sede distaccata noi chiusa la sede distaccata del tribunale abbiamo perso anche nella scelta nazionale abbiamo scelto la titolarità per quanto riguarda giudici di pace lo manteniamo lo manteniamo con determinazione lo manteniamo facendo questa convenzione con gli altri comuni indubbiamente con tutta l'amarezza che dopo questa battaglia ulteriore invece abbiamo pochissime speranze per quanto riguarda l'aspetto del tribunale ma credo che sul tribunale magari la prima conferenza capigruppo potrà aggiornarvi anche perché sono state fatte ancora alcune iniziative il 13 settembre però incombe e credo che il 13 settembre sarà la data in cui in qualche modo le decisioni relative al tribunale di Alba verranno prese grazie sindaco se interviene adesso il consigliere Panero grazie signor presidente premetto al mio discorso che noi del nostro gruppo siamo sempre e accogliamo sempre in modo favorevole molto favorevole quando si riesce a garantire dei servizi ai cittadini questa pratica è un iter che è partito appunto tanto tempo fa qualche tempo fa e quindi ci troviamo noi oggi a dover approvare una convenzione a questo proposito chiedo se è possibile avere qualche chiarimento in merito il primo chiarimento che mi preme richiedere è all'articolo 3 quando si parla di impegno economico degli undici comuni che si sono praticamente riuniti la prima domanda che mi è venuta in mente è sapere quali sono stati i criteri che sono stati usati per arrivare alle cifre richieste dei comuni e di conseguenza la cifra rimanente per il comune di Bra all'articolo 4 leggo praticamente che ci saranno delle consulte di controllo un dirigente responsabile questi sono costi aggiuntivi o sono delle assemblee diciamo a costo zero e l'ultimo aspetto è quello se ho capito in maniera corretta all'articolo 6 viene detto che questa convenzione dura un anno ma ci sarà la possibilità di poterla rinnovare per un altro anno o anche per più anni nel primo anno ovviamente giustamente non è data la possibilità ai comuni di di recesso ovviamente da questa convenzione per una questione di copertura finanziaria ma in caso di proroga per più anni la facoltà di ricevere dagli impegni assunti è concessa quindi in caso io mi auguro di no anzi mi auguro il caso contrario che ci siano altri comuni che vogliono inserirsi e partecipare tra virgolette alle spese ma se ci fosse questo questo caso dove alcuni comuni vogliano avere recesso da questa convenzione gli 85 mila euro che leggo qui di diciamo spesa annua che poi leggo 10 mila euro una tanto vuol dire che ci sono solo forse il primo anno poi non ci saranno più non lo so se saranno a maggior carico e a maggior onere dei comuni diciamo che rimangono a usufruire del servizio grazie grazie consigliere dottor fissore ah no no nel senso che non mi pare quindi prego allora rispondo solo perché ho assistito a tutta la la pratica fin dall'inizio è chiaro che il criterio è stato una trattativa fra i comuni i comuni prima erano eravamo 14 comuni siamo rimasti in 12 due se ne sono dati via Novello e poi Rino per evidenti motivi geografici gli altri che sono rimasti chiaramente la quantificazione è stata fatta sulla base demografica i comuni più piccoli e Verduno ha chiesto ancora uno sconto perché è chiaramente ancora più picco hanno messo 750 euro all'anno e sulla base anche del fatto che era difficile cioè mentre avevamo dei dati sul numero totale delle pratiche non abbiamo dei numeri delle pratiche per abitanti perché per comune è un dato che il Ministero delle Finanze non ha quindi si è andato sul criterio diciamo degli abitanti e quindi due comuni più grossi che sono Bra e Carmagnola si prendono l'onere più grande è chiaro che Bra ha 55 mila che vuol dire però qua dentro vuol dire come si dice anche nella convenzione è il valore del personale è il valore dell'immobile emesso cioè noi però finora avevamo un affitto pagato tra l'altro nemmeno sempre in maniera totale da parte dello Stato perché a seconda degli anni se avevano meno soldi ce lo pagavano da adesso in poi non è che noi avremo sicuramente un affitto di quella roba lì e quindi cioè chiaramente noi non sborseremo 55 mila euro sono è l'equivalente diciamo della quantificazione del piano economico ho fatto il piano economico è chiaro vale per il primo anno perché l'impegno dei comuni è stato per un anno sul secondo anno si rinnoverà si vedrà la questione dei comuni che vanno e vengono il problema è però che non è che i comuni vanno e vengono come vogliono il problema è che se qualcuno vuole inserirsi e così pure se qualche comune si vuole togliere dovrà essere il ministero che approva il fatto che ci sia ancora una sede di giudice di pace ad esempio se vanno via due comuni per dieci prima si vedrà quello quindi andrà fatta una trattativa per tempo se qualcuno vuole andarsene via e poi dopo si chiederà al ministero allora potremo anche rivedere gli oneri dei comuni è anche vero che appunto il primo anno abbiamo messo più o meno diecimila euro perché le attrezzature informatiche eccetera alcune delle attrezzature se le portano via e quindi dovremo rimetterle noi quindi questo sì magari mettendo già della nostra della nostra attrezzatura tutto qui spero di aver risposto grazie al dottor Fissore se non ci sono altri interventi poniamo ah chiedo scusa consigliere Panero io ringrazio la risposta del dottor Fissore era anche la mia idea infatti diciamo una proporzione matematica per abitante l'ho fatta anch'io onestamente le cifre mi venivano un po' diverse per fare alcuni esempi facendo una mera proporzione di abitanti mi verrebbero cifre quali il comune di Carmagnola 26 mila euro comune di Cervere 2000 che era scottomila ma non voglio star qua a fare un discorso di cifre queste erano solo delle domande che mi sono fatto mentre leggevo diciamo questa questa delibera tenendo anche in considerazione che il giudice di pace ha una competenza sua che va fino a 5 mila euro secondo me sarebbe opportuno ma non è la nostra scelta poter alzare questa competenza fino a magari 20-25 mila euro magari potrebbe essere sicuramente un servizio maggiore e potrebbe tra virgolette giustificare un impegno di spesa di tutti i comuni oltre che del comune di Bra su questa delibera comunque come ho detto in premessa finisco nello stesso modo accogliamo in maniera molto favorevole questa delibera perché da mantiene un servizio ai cittadini braidesi e non solo c'è solo appunto venuto quando leggiamo cifre di questo tipo mi sembra giusto e legittimo farsi delle domande e chiedere come si è arrivati a a queste a questi impegni di spesa comunque ribadiamo il nostro totale voto favorevole a questa delibera e ringrazio per le spiegazioni che ho ricevuto grazie grazie al consigliere Panera se non ci sono interventi poniamo in votazione la proposta 13 convenzioni interventi della sede del giudice di pace a bra segnaliamo la presenza bene si può votare votazione chiusa all'unanimità votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera bene presenza confermata si può votare sono sempre io la manina passa solo per segnare la presenza non viene dopo all'unanimità all'unanimità anche la immediata eseguibilità proposta numero 14 fondazione Politeama Teatro del Piemonte provvedimenti parola al sindaco la fondazione la fondazione Politeama nasce nel 2004 nasce con una serie di presupposti importanti di promuovere delle iniziative culturali per valorizzare il territorio ma nasce soprattutto per quel contesto perché vi era un intendimento regionale di partecipazione alla fondazione e di allargare questa fondazione a privati a varie realtà e quindi di estendere e di farne un luogo che servisse la promozione della cultura del teatro in particolare ricordo soltanto che in quel contesto avevamo il Politeama che era stato inaugurato nella primavera precedente in quel momento era ancora chiuso per qualche lavoro doveva essere forse collaudato insomma e di era stata questa proposta che era stata portata se non erro il 30 di dicembre del 2004 sempre relativamente alla fondazione la direzione in una logica secondo me importante e positiva e già di spending review rispetto a quanto è avvenuto da in altre situazioni la direzione artistica culturale è stata affidata allora al direttore dell'ufficio turistico turismo manifestazioni cultura del comune di Bra e questa persona che è Beppe Manassero ha rivestito l'incarico fino al 23 di maggio del 2014 c'è un altro aspetto molto importante che le finalità per cui è stata creata la fondazione erano quelle di realizzare un'annuale stagione teatrale promuovere lo sviluppo del teatro nelle scuole gestire le attività culturali del comune e io credo che queste finalità soprattutto quelle volte alla valorizzazione del Politeama siano state realizzate oggi abbiamo negli anni abbiamo assegnato alla fondazione una serie di compiti ulteriori dalla gestione del centro polifuzionale alpino a quella del movicentro nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di poterlo avere in uso all'istituto musicale e questo per ragioni che all'interno della fondazione vi era una migliore possibilità di di svolgere in maniera più spedita una serie di operazioni se sulla base del fatto che da un lato la partecipazione di privati e soprattutto la partecipazione della regione non vi è state quindi questo aspetto è un aspetto da tenere presente oggi la partecipazione della fondazione è per il cento per cento di partecipazione comunale e in una logica che ha caratterizzato un lavoro in questi anni previsto sia dalla normativa di legge ma anche da elementi volti al miglioramento dei servizi cercando di spendere sempre di meno abbiamo cercato di internalizzare una serie di servizi o comunque di modificare il loro svolgimento in parte su indicazione di norme di legge pensiamo per esempio a quelle che hanno ci hanno dato l'indicazione di chiudere le partecipate e questo ci ha portato a vendere la partecipazione relativa alla piscina piuttosto che ad internalizzare a sciogliere il CAIN con un indubbio risparmio dal punto di vista di una serie di costi e di un servizio che è reso in maniera decisamente paragonabile a quella che si aveva prima dell'ossolimento del consorzio stesso oggi istante la situazione del fatto che Beppe Manassero non è più in grado di poter gestire la fondazione e trovandoci in una necessità che sarebbe stata quella di nominare un direttore della fondazione dando un incarico con dei costi e con delle indubbie ricadute dal punto di vista delle cifre che il comune avrebbe dovuto esborsare essendo l'unico socio della fondazione abbiamo valutato che la fondazione dovesse essere posta in liquidazione e dovesse essere posta in liquidazione e a partire dalla data in cui sarà messa in liquidazione con gradualità la fondazione svolgerà ancora alcune ha svolto nei mesi scorsi e svolgerà nelle prossime in prossimi mesi ancora una serie di funzioni tra cui sicuramente la stagione teatrale del prossimo autunno inverno e poi mano a mano potrà essere riportata per quanto riguarda la nostra struttura all'interno della struttura del comune grazie grazie signor sindaco ci sono interventi se non ci sono interventi poniamo consigliere Somalia devo ammettere che quando mi è stato recapitato l'ordine del giorno del consiglio mi ha colto un po' impreparato questa proposta di deliberazione anche se comprendo tutte le motivazioni soprattutto economiche che spingono a portare questa proposta mi chiedo ovviamente vista la complessità anche della gestione il passaggio dalla dalla gestione della fondazione agli uffici comunali dei quali conosco la competenza e la professionalità non possa però causare qualche intoppo o qualche problema gestionale certamente è un argomento sul quale mi piacerebbe così approfondire un po' la situazione o comunque ragionare in maniera un pochino più compiuta sull'opportunità o comunque sulle conseguenze che può avere questo tipo di deliberazione d'altra parte comprendo anche la necessità comunque impellente vista ahimè la dipartita del compianto amico van a sera di porre comunque mano alla situazione sia organizzativa che procedurale detto ciò se fosse possibile comunque al di là dell'approvazione della delibera proseguire in altre sedi conferenze capito piuttosto che commissione cultura quando sarà insediata ma ritengo che sia più da commissione consigliare rispetto a commissione comunale andare un po' nel nel dettaglio di quello che è l'organizzazione che eventualmente verrebbe proposta in alternativa alla fondazione Politea grazie grazie consigliere Somalia consigliere Ferrero Presidente a nome della maggioranza esprimo parere positivo a questa proposta di deliberazione le motivazioni espresse in premessa e che stanno alla base dell'esigenza espressa dal consiglio di amministrazione di procedere all'estinzione della fondazione Teatro Politeama e per la quale proposta viene chiesta la condivisione ci pare siano chiare e ben argomentate non sto a ripeterle o commentarle si tratta di prendere atto che un'esperienza iniziata nel 2004 con la valorizzazione del Teatro Politeama ristrutturato e rieperto al pubblico è terminata quell'esperienza come ha detto il sindaco prevedeva che l'aspetto organizzativo gestionale fosse demandato ad un'appoggiata istituzione quindi proprio la fondazione Teatro Politeama e che la direzione artistica e culturale nonché il ruolo di direttore amministrativo fossero affidate al compianto Beppe Manassero ora da un lato la sua prematura scomparsa le mutate condizioni economiche generali le difficoltà riscontrate ad attrarre capitale private e pubblici per il suo finanziamento la necessità di una nuova organizzazione che si è mantenuta nelle forme attuali avrebbe costi maggiori e dall'altro la nuova politica dell'amministrazione comunale volta ad internalizzare alcuni servizi peraltro già sperimentata con successo affidandoli a professionalità interne esistenti con conseguenti economie porta nella conclusione che una nuova esperienza basata su presupposti diversi e con gestione internalizzata possa prendere forma pertanto il parere richiesto circa la necessità di sciogliere l'attuale fondazione non può che essere positivo e voteremo a favore grazie consigliere Ferrero a quanto pare non ci sono altri interventi quindi posso procedere alla votazione di umilità quindi segnalare prego chiedo scusa sopra poi terminando l'intervento adesso noi il nostro gruppo si asterrà ma esclusivamente per i motivi che ho voluto elencare precedentemente ha chiesto la parola il consigliere Panero effettivamente io avevo già dichiarato chiuso la discussione comunque prego come dicono tutti rapidissimo per le stesse motivazioni che ha espresso il consigliere Somalia visto che ritenevamo che riteniamo che è un argomento così di questa importanza tra l'altro la fondazione del teatro un teatro che per tanti anni non è stato diciamo usufruibile dai cittadini poi per fortuna si è riuscito a recuperare questo che è un patrimonio della città meritava lo so capisco i tempi stretti comunque un passaggio una discussione almeno nella conferenza dei capigruppo in una commissione quindi per queste motivazioni il gruppo Bradomani si asterrà dalla votazione di questa delibera grazie grazie consigliere metto in votazione la delibera bene si può votare votazione chiusa undici favorevoli sei astenuti eseguibilità segniamo la presenza consigliere Ferrero consigliere Gemma bene posso mettere sì metto in votazione aspetta c'è ancora un votato all'unanimità diciassette prima di sciogliere il consiglio ha avuto delle indicazioni per quanto riguarda delle incombenze sia di carattere amministrativo per quanto riguarda la nostra carica di consiglieri che scadono il 22 agosto sia per quanto riguarda per quanto riguarda le pubblicazioni componenti vale a dire tutto quello che è la campagna elettorale rendi conto delle spese sia terzo la documentazione relativa all'elezione di secondo grado del presidente della provincia e del consiglio provinciale questo dovevamo trasmetterlo per le opportune provvedimenti prima ancora di salutarci voglio esprimere una considerazione nei confronti del segretario generale salvo sorprese dell'ultimo momento questa dovrebbe essere l'ultima seduta nella quale abbiamo goduto dell'assistenza del segretario generale dottor proietti il quale come molti di noi sapranno già da qualche giorno ha preso servizio presso il comune di Alessandria a ricoprire il ruolo di segretario generale del comune per lui si tratta sicuramente di una buona grande soddisfazione anche professionale che premia il suo impegno la sua professionalità che ha dimostrato qui da ormai 12 anni io ho cominciato a collaborare con lui quando ero presidente del consorzio socioassistenziale intesa e lui era venuto come segretario anche del consorzio intesa oltre che del comune di Bra e in questi lunghi 12 anni sia pure per me intervallati da 5 anni di riposo tra il 2004 e il 2009 ho sempre veramente potuto apprezzarne prima di tutto la grande carica umana la grande competenza la professionalità la precisione e se mi permette pur lui non essendo un braidese d'origine un grande attaccamento ai valori della nostra comunità di Bra questo sicuramente va a suo onore e io mi faccio interprete chiaramente dei sentimenti dei consiglieri anche passati che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e lavorare insieme a lui così come esprimo a nome dell'intera assemblea un sentito veramente un grazie per tutto l'impegno che ha profuso in questi 12 anni molti dei quali molti impegni dei quali anche vissuti in modo un po' nascosto nel senso che il segretario generale segretario generale per definizione è un uomo che lavora come dire dietro le quinte nelle retrovie pur essendo sempre presente ma mai o quasi mai diciamo così gode di quella visibilità che invece per altre competenze abbiamo hanno gli amministratori però senza il lavoro del segretario generale e dell'intero staff della segreteria anche le cose che noi facciamo qui questa sera non sarebbero possibili quindi veramente un grazie sentito un applauso il sindaco dice vuole ancora aggiungere qualcosa io credo che mi comore e quindi dico grazie dico grazie e ovviamente gli faccio gli auguri di una veramente di una che abbia fatto una scelta di carriera in cui si ritrovi e in cui riesca a dare tutto quanto è riuscito a dare a questa comunità viaggio ha sottolineato un aspetto particolare a cui tengo molto credo che abbia saputo essere interprete dei valori della nostra comunità pur arrivando da una comunità lontana è una qualità che insieme a tante altre abbiamo apprezzato lo invitiamo già fin d'ora a uno dei prossimi consigli ovviamente se con i suoi impegni laggiù laggiù che poi non è che sia poi 80 chilometri comunque speriamo di vederci presto grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti